il freelance camp è relazioni solidarietà futuro freelance camp è sempre più network freelance camp è fare questo video sempre in ritardo per i video che mi vogliono benissimo per questo motivo e adesso dovrei rimanere così o tipo così per 5 secondi non sono capace freelance camp è un viaggio di pellegrini di smart worker che provengono da sentieri di terre vicine lontane un'occasione di riflessione e di crescita personale interiore e una condivisione di uno stato mentale dell'anima è un'occasione importante da vivere freelance camp è un evento imperdibile è un posto familiare dove si sta bene ci sono delle persone disponibili